più alto il volume abbiamo insordito tutti anche stavolta non te mentirò è veramente brutto il tuo vino erano anche dei pezzi tra l'altro ma quanto sono un burcollo bene greetings buonasera e bentornati sul canale di chromatic scale come sempre io sono Icarus e qui con me c'è l'immancabile silenzio siamo vivi non ci hanno rapito gli alieni visto l'altra volta che non ancora e purtroppo hanno deciso di farci esplodere la connessione senza motivo e senza preavviso quindi sono rimasti un po' fregati al riguardo con noi stasera è tornato a farci compagnia pure l'alla è venito in questa nuova e fantastica festa è con noi finché non sia permetta per 5 minuti e allora avevamo lasciato la nostra fantastica blind randy sono del senso di soldead century ma non è il boss del drago riusciremo questa volta a sistemare questo drago maledetto questo drago maledetto è il boss del drago maledetto è il boss del drago maledetto è il boss del drago maledetto la mia Oh, i'm just hangin' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 no, 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 no. Uff! Come c'è l'era che c'è fatto? Facciamo di livello! Eeeh... Non c'è un maniscalco, qui c'abbiamo... Oh, scusa, qui... Eh! Eccolo! E' il biopulsante! Potenza... Vediamo un po', per potenziare la clay... L'ordini di un signore, se ne serve... Lo possiamo fare... Ah, però possiamo... E qual'era l'altra arma? Eeeh... l'alchimista... Qual'era l'altra arma? La mazza flangiata? Ma non dovete ancora... Ma non abbiamo una poesia di un soldato per poterla livellare... Però in compenso potremmo... Ma... l'armatura da cavaliere... Non lo possiamo... E' un'armatura di classe 4... E' un po' di livellare... E' un po' di livellare... No... Sono come le anime di Dark Souls... Ah... Ah... Lo possiamo mettere da super! Siamo in realtà a aumentare la forza, ma potremmo anche cominciare a pensare a che andare, tipo Vigiporta gli scudi di classe 3, dare malzapicchi, danno due punti di destrezza. Un po' aumenta la volontà, che confusione, sennò la prossima fiaschetta dov'è? Vabbè, ma se vogliamo l'armatura di classe 5 prendiamo questa. Un po' di impulsare l'armatura da Cavaliere. Corazza di ferro del Cavaliere Orrido. Ah, questa è la descrizione. Corazza dell'Anticanecco tra l'altro pesa meno, perché è quella del bossa, sì. No, 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 no! Non ruona neanche! Ho fatto tanto e non lo fatto niente. Oh, no! Questa maglia palatina Mi fa trolla anche così Da tra l'altro ne aveva uno Questa pesa 10 Siamo in fattro Siamo in fattro senza scu Siamo in fattro Mettiamo i guanti del polpante Basta me Siamo in fattro Avevamo ancora la sala chiave seguitata E la possibilità di scontentare il più E' qua Da che parte andrà Ma questa armatura c'è il pantezzone Ah c'era la porta Ma questa è la mia Ma questa è la mia Ci sono in fattro E' qua E' qua E' qua E' qua E' qua E' qua Dal tipo per comprare Il resto dell'armatura Solo che non ricordo dov'era Ehm 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 Andiamo a tornare al coso Al santuario Proviamo ad andarci Ma questa è la mia Siamo in fattro Ma una Ehm 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 L'armatura sta sbagliata, devo fare un salto in più perchè non lo sa di... E continuo a sbagliare! Aaaaaah! Transforming! Sbaglio dei sorrisi, passo dei banditi... Cos'era il passo dei banditi eh? Pare che si tornava indietro, perchè sennò che ci abbiamo? Sì dai, è quello del passo dei banditi Eeeh, a porta! Ah, tra l'altro vediamo che cosa possiamo fare col corno Allora, la lancia ci fa una cosa Cetta diventa la cetta razziatrice, la mazza diventa la massa di arme Arco, l'arco della tribù del falco infame, la falce... Diventa una falciatrice, che è una falce da guerra di classe 2 Palestra di Platone diventa palestra del fuoco inferno L'aquilone Palatino diventa egida di Umbra Vai! Adesso sono tutti uguali Parlo comunque, ci manca sempre quello stramaledettissimo idolo d'andra Ma qui? Se non mi sbaglio Non ci basta... oh 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 Ah, si muore, si muore, attenzione Oh ma qui? Faule Oh, attenzione, una corazza, una nuova corazza Siamo strappesanti anche con questa corazza La faccia la scala Fia la scala Ok, non ci basta E' una scala Il rispone è un problema Il rispone è un problema Siamo in questo caso C'è una scala Ah, questo è un problema Oh, è un problema la gara trascorrentata in america di 19 mesi con l'auto a vapore con i colli con i luoghi resi sopra un pochino preso con l'america la gara trascorrentata in america la gara trascorrentata in america rancorrentata in america la gara trascorrentata in america il yao il yaoi ... non c'è . 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 Sì, non c'è nessuno. Sì, si è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non ci quello che è da, non è vero. Ok, non è vero, non è vero. perché ci sono io impiccato oh no io ho impiccato quattro volte la pina non pina da fatto la pina non pina eh perchè chiaramente ero un po' posione ai che ai noi il E' un sacerito. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vai! è vero eh ma tipo all'inizio del gioco c'è che c'è tipo voglio dirti a me è qualcosa del genere tipo che cerco di sparito stava qua il mercante stava qua non lo so non lo sta hai mandato avanti la quest forza devo solo cercare di capire dove sto lì ciao trappole che falle le beccole tutte tutte e le tre eccole un altro è di pronto ho sentito di pronto che mostra segni di usura ah grazie per la delucidazione oh no c'è il trippone oddio è impazzito vieni vieni ahah ora non sai che fai guardi contro i bordi non cadi ma c'era ribugnato ho sbloccato un ascenso c'è tipo l'indicator perso di pianeta che è qui già l'altra volta non c'è e' un'altra cosa che l'altra è canticchia c'è poi ci facevi con la pouligine un po' due, pugno di pouligine alloccata la lente di metterlo è perfetto foto ancora? puoi? gra... c? no tre tre semi contro le illusioni poi una falina e quelli tipo cinque di pouligine e cinque pugni di pouligine poi fai un saltino gliciatissimo su una colonnina per andare sopra la testa che ti da il prompt per il colpo mortale e tanti saluti alla barra della scuola poi c'hai visto? ci sono due colonnine alzo è abbastanza in alto per... ehi io ho detto hai visto? lo so ho visto abbiamo visto la scuola guarda vedete c'è un punto su va via vai avanti vai avanti entri dentro adici sento la mappa foto della mappa è come se si può stare tutta l'acqua potete qui vuotare quando su ogni punto ma va arrivi anche di poche sera no è stato assurdo per lo so mi rimane è un campo lavoro mappettorissimo faccia lì bene 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 ah spiderman no perchè non avevamo il salta salta sui muri oh amico guarda qui compra articoli vediamo cosa ci vende ciocca di capelli zanna in pita poi si scella ripugno eh anche le armature ardo vabbè come c'è oh quanto costa? due minuti i ritorni anzi che ne fare fare quante fare tante e anche e anche e anche compriamo allora che ci serve la poesia intanto compriamo quattro di queste si siamo quattro di queste ci metiamo se ne riusciamo se ne riusciamo è un erede divina aspetti aspetti è una leva e apri la porta ouch ma in realtà volevo perca intagliata che cosa sarà aspetta un po' dei nemici fanno boffe paura della mia claimory infiammante guardalo penso di sì guardalo l'altra volta è anche vincente no sono morto con quella cosa o ti va lanciare sono morto e vabbè ma magari ci è arrivato vieni ho vieno che mi abbandono oh in chiede come stereo mi ha fregato 24 monete d'oro perché non ne avevo più eh perdite questo è piaciuto no ciao ciao b e anche perché io fino a martedì mercoledì dai su mangierò suicida nooo nooo cazzo quando in sale dovremmo abbondare questo posto poi se volete le porto senti il vino assolutamente prima sera fa salte wine dubla di wine nooo vedi buona fatta vedi se tu fai l'altra parte si che tu veda posto i trantecti vedi oi vedi vedi devi dare il cosmo in questo già eh, ci viene va proprio il salto in lì si era mai stasera è stato pure la vita qua è un secondo che vengo là è una pausa ah già no è già finito mi ricordo devi alzare il barico c'è il mio sale questo ciccione ahia sarà morto erano quattro filti sacco di sale questo vale forno del richiamo no 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 teletrasporta l'osso del ritorno però è selettivo quindi apre la porta e mi riporta con la porta al santuario che dico io mi ricordo no nessuno è andata ah nel frattempo tanto siamo qui allora noi salutiamo Raven Ravenhard di Reza stai a chiudere? no faccio cinque minuti di parte vuoi carica batteria? e niente ci vediamo tra cinque minuti guardate io quando ho Grazie a tutti. 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 21. Grazie a tutti. Non ricordo. e non posso mettere... mercante così o non c'è mercante comunque avevamo visto che anche le altre spade non andavano per anche data 4 armature di tanto solo una volta truffati da l'ospada c'è Eeeh... Ali. Ali. Qualche ricordecente da me a fericela? Molto ricordo a morendo. Non dobbiamo mettergliela solo perché... Ti vedo anziché... Invenziamo tutti a principi... Piuttosto che perdere il sale, scusa eh. No, non c'ho più ciocche di capelli quindi non posso più potenziere niente. Ah, non siamo andati... non siamo più tornati sul posto con i... con i senza sale. Guarda quanto rotoliamo veloci. In realtà potrei mettere uno scudo un po' più pesante, ma che protegga un po' di più. Sh, un po' più pesante, ma che vuoi usare il Ellerone. Non so. Ehm, ok. Invece così abbiamo la camera, ma siamo in quattro. Un paio di guanti più leggeri, ma più leggeri di questi. Ma questi da maniscaichi? Oh no, che stai facendo? Ah, via. Siamo troppo pesanti. Ehm, diverso di giocare con la Claymore e quest'armatura. Molto, in mezzo dei mob che continuano a distruggerci. Ah! Ehm, proviamo questa massa proficelata e vediamo. Ehm, ecco. Un cavaliere... Sto affacciato raghi che non ammazza i raghi. E' andato. E' troppo cica io. Ehm... 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 Le guardie blu hanno raggiunto le loro forme attuali a causa di una serie di esperimenti di retrasporto disastrosi coordinati da Plan e il cercatore. Ehm... 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 io guarda ancora lui purito avvicinati fatto corpo attende il tuo morte vuole conoscermi adesso vanno avanti indietro freneticamente io sono adesso adorano le loro meschine divinità i loro falsi signori mentre si combattono le loro futili guerre vivono e muoiono per i rei canaglia mortali io sono tra i dei grandi e piccoli imperi la vita si inginocchia la morte si inginocchia a me e non dice niente prenderanno ammazzata va bene attento tu che sono tu siamo a me lo esamina luna fine la morte si inginocchia a me la morte si inginocchia a me nooo basta nooo basta Scusate in bocca, figli! Trascossa, sacca di sale Dove sta gente, eh? No! Va! Non mi faccio colpirti se tu mi corri con sciolto l'esca di adesso e lo so ma non posso prenderlo da qui al contrario e lo so ma non posso prenderlo con una rattoppata ah il set rattoppato rosso orecchie dell'uomo in gabbia un'esta di fulmine un incantesimo ah però per andare devo essere al contrario troviamo da giullare mi hanno ferito un sacco ok non si può andare da giullare se l'anello è quello che evita le ferite può non essere una cattiva idea pari avanti non viaggio ah ok fa fare danni da fulmine la setta di fuoco per i birriano è di buona eccolo qua è di buona eccolo qua qui si cambiare o qualcosa del genere scendere ancora non abbiamo affrontato come tra l'altro non so con quale cazzo di motivo sia riuscita a colpirmi mentre lo eliminavo ma vabbè torturatore 7078 di sale beh io non ho parole non so con quale ah! ah! un cozzo rosso eriiii eeefa ma no cazzo ho bevuto ma porca puttana ma possibile ho messo l'arma più veloce per colpire più veloce colpisco più lento di prima e del cazzo devi ciii ahah c addirittura c c c c faccio così almeno c'ho più range no ma niente il range è esploso ah ok voi non mi avevo visto ok il bacinello rivente ok 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 c 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 è morto o oh oh Ah no, non lo so, non lo so Andai Ehi 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 non vuoi o no? il vecchio del signore non lo so non lo so ti droppano i guardi no, non lo so roba no e dei mob più stronzi e rompicoglioni non potevano inventarseli non la potremmo mettere la gonna mettete invece si ma però leggera tanto ce la fa me non ma io siamo riusciti a trovare la cotta di maglia veramente più leggera della nostra armatura ma oramai la nostra armatura è che è molto difficile invece hai la gomma con che hai fatto questo abbiamo due dircro di gomma basta vai ehi ci va avanti così ahahah ahahah tipo la maschera della strega di... no è quella del tre trappolo davanti e la maschera dei... sembra la maschera no, non dei zulli si si è il passo di mattina siamo arrivati da sotto siamo arrivati da sotto hai dei due separati vabbè non ha sciolto più con te sono passati da qui prima quindi sono passati da qui prima quindi si questo era proprio il po' boh vabbè vediamo uno un brazzo con un pastello bellissimo una super fashion e una benda super fashion da qui gomentare dell'omini e la 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 e la 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 e la 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 e la 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 ma non gli imbecilli farono frecce a parte il flange incantato al tempo mi sape ah no è la torcia perchè mi prende uguale fine games scappi no continui a scappare per favore non ha troppato niente se sapere cosa ho usato per aprire questa porta non lo so facciamo proviamo a tornare su il santuario non mi ricordo male visto che sto finendo le posioni era qui o era più su? era qui c'è una strada anche qui lo so è un'altra strada prodotto da rhodes hai ammazzato il drago e io non ero nemmeno lì ad aiutare mi dispiace bravo suppongo di aver bisogno di una nuova missione allora molto bene la zigurat non dovrei andare nei suotterranei del castello il mio cuore vuole ciò che si trova nella zigurat ma prima c'è quella cosa miserabile il duomo del dimenticato un luogo misero con echi di sofferenza sciagura dolore beh mh morte forse vorrei passare per i sotterranei il presentimento che sia meno terribile ogni volta che ti senti spaventato guarda che sei l'eroe di te stesso grazie grazie pallotto impressionante dai bravo mettere lì o di là ah hai sconfitto il boss ah bravo oh you should have waited a vedere dove ci porta questa grazie 10 oh tu pensavi di poterti uscire eh ah tu pensavi di poterti uscire eh non armi in monaci esiste una gran parte del ferium in questa tunica in particolare c'è quello stile di car ah del è il nuovo set di Don'tless ah 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 cos'è colà? i guanti dell'anzigan è qua ah chi si va? e la forfante ma qui dove ci va? ma Eh, infatti stavo bruciando proprio quello Perché ci rimanò via, era stramba, mai vista da nessuna parte Non voglio ancora arrivare Guarda i miei Come off the forecourt La sala l'ha vista un po'? Oh Oh, il platforming Oh cazzo, ci sono i miei Ah no Pass di scira a manca Guarda la mia Siamo degli sotterranei orribili con le gambe Si, chiaramente Guarda, adesso torno dal mio amico e gli dico Lascia perdere il duomo, passa per i sotterranei Jump jump Vedi, guarda, vedi Eh si, sicuramente Sì In realtà abbiamo trovato delle fiale così Le verdi Sperdici che non hai meno di usare Un errore di me stesso, adesso fammi tornare Un errore di me stesso, adesso fammi tornare Ok Guarda, guarda che dico le... Adesso vedi? Però devo andarmi a curare, devo risettare un attimo la zona Sperdici che intendo Pario Quando la speranza tu inutile buffone Pale, il santuario divertente Io sono sale uomo Ah 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 Eh dico... le piazza Ah! Guarda, ho visto una pozzina di stoccolta, la capacità di vedere ciò che si nasconde in una dimensione troppo eterea per essere percepita dalla visione orte. Quattro! Ho creato quello dietro, non ci credo E' impazzito adesso A fare come prima Oh, va bene E che, beh, ovviamente Oh, va bene Porto di giù? Ander Quindi di qua, giusto? Ebbè Davanti o di sotto? No Continua ad attaccare Sempre Da dove è colpasso? Veletta da satico Ho droppato la faccina Allora abbiamo trovato Deve essere discreti scudi Questo non lo possiamo mettere perché È uno scudo aquilone di classe 3 Uno scudo realizzato nel pesante ferro della paludina di Catania Che è presente il rilievo di un drago Vabbè Protegge il centro da veleno La torre è tipo 46 E lo sapevo che è abbastanza fettente da muoverti Oh oh non mi piace Dovreste lasciarmi stare per favore? 9306 di San Però si materializza in forma di creatura ultraterrena perché sono morto per la caduta E... E... La traere da quella Uff Sanandosi e rolando non... Basta Prontami, torturator Guarda i danniii Sofaaaa Ok, e più feriti di prima, torniamo alla... E' un minuto E' un minuto E' un minuto E' un minuto Poi morirai? No? No, me fa cadete sotto? E' un minuto Aaaaaaaaaaaaaa F*** S***** 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 Dici mila, sei cento e non è morto S***** 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 ecco 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 vanno sempre più su qui non posso fare niente niente zero guarda guarda la mica sarebbe riuscire a mort mort non è l'impeccato non è l'impeccato non è l'impeccato ma rimanere ecco E' un'arma distrazione. Una spada insolitamente leggera, graziata, realizzata in un carico piegato. La spada alla mano è tenuta in sicuro per il nostro. E' un Detelma. La ci abbandona. La nuova build destrezza. Questa è infinita. Ho già bisogno di un altro santuario. E qui c'è il santuario. Figo. Riusciamo a fare due livelli. Sì. Eh, abbiamo tre punti. Smo...smo...smo...smo... Riguoà. Rerolliamo un build destrezza. Vai. No, però sarebbe...eh, vabbè. Si potrebbe fare, in teoria, credo. Ah no, bisogna trovare più di quelle perle strane. Incrementare quelli... Ah... Una boccia di... Qui. Serve la forza. Forza, poi due muli. E possiamo prenderle tutte e tre, tra l'altro. Si. Una forza. Uno. Un altro muro. No. Vabbè. Posso. Posso. In realtà, forse con qualche... La borse di sale riusciamo anche a fare... Non è purissimo. Non è purissimo. Allora, un effetto... No. È perissimo sempre molto appennato. Che faggine! Guarda che stesse! Paladina di nuovo! Guarda che stesse! Quattro e quindi rimettiamo la nostra fantastica maschera! Ho proprio fatto altro! Ah! Prova la maschera tommo! Come è? Era tipo... non sa di caghera! L'abbiamo... Quella... E l'è cagliata! Perché non possiamo mettere? No perché è un'armatura leggera! Il cappuccio era toppato! Eh? Dai! Un altro abbiamo trovato una scorciatoia! Eh! 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 E poi c'era tipo... ...movi scenderi la volta dai... Con dei mob assurdi! Con dei mob assurdi! Con dei mob assurdi! E che... Eh! No! C'era lì! Questo ci va dall'altra parte! Dalla parte opposta dei piccati spettrali! Sì! Sì! Cosa! Ii! Cosa! Sì! 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 Anche... Anche... Cosa esiste? Ah, scelta! Oh ma no! Ma c'è una strada che non abbiamo esplorato più adesso Cosa è il mio? Cosa è il mio? Cosa è il mio? Cosa è il mio? Un giorno. Che 20 anni hanno fatto? No, non siamo andati qui Una shortcut che non abbiamo ancora attivato C'è l'argetto? Uuuuuh Ong Dai Ma daiiii Sì, ma no Ah nooo! Che giusto ma non viene proprio per l'alto. Eccolo poi che l'annome escono lì? Ma cioè, ma dai ma... Ma preso qualcosa? Ah, non ma preso... no no, l'ho perso tutto il sale la sua spada è abbastanza lunga da poterli colpire tutti intanto mi doveva tirare l'ascia sul muro però l'universo con un shoot non esistono non esistono ma che tira fuori tutte le spade rubirli tutti e due è proprio che non ti piaceva ah, grazie oh, grazie ok, grazie Ehi 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 Sì Dai Mischio Stai tutto calcolato Era un lancio a fianco Eccola Te lascio il cazzo di felice Eccola 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 Ma siamo messi abbastanza bene Non c'è bisogno Abbiamo 7 chiara Sarà finita sta cosa Oh cazzo Non c'è piatti Sprellucica uguale No Ma solo lasciovi Perdone Oh che ho detto? Siamo messi abbastanza bene Abbiamo ancora abbastanza piasche Ma scusa? Peccato la seconda Eccola Eccola 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 2,3,2,3 2,3,2,3 1,2,3,3 L'ho多了 1,2,3 2,3 2,3,4,3 1,2,3 Un'altra 2,3,4,2,3 Di cazzo Ho usato la shortcut Cazzo male! Grazie! Bello! Ehi! Ehi! References! References! Ehi! Ehi! Destro sinistra! Qui c'è un sacco di gente! Sì! Vedremo il nostro tour! E dopo uno è stupido! Ehi! Ehi! Morirà! Ehi! Ehi! Oh! Oh! Questa la matura mi piace! Dov'è? E anche più leggera! Ehi! 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 Però li possiamo venire! Ma quella è la matura di cavaliere con la casa! ahahahah facciamo il telefono oh mi cade il telefono gli scarichi non adesso mettiamo la gonna la connellina i pantaloni da amore il cappuccio dov'era? la teniamo questa? era sicuramente me non c'è il mantello però non c'è il problema non c'è il problema è detto non vuole mi correre dalla trappola eh rosso sacco di sale rosso sacco di sale non c'è il guarda quanti sono non 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 no ma abbiamo l'anello che aumenta la nostra difesa di danno da fuoco la bruciacchiata ma serve per potenziare le armi effettente ma 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 non ma Ah, tu, dai, io, qua Ah, cosa... Mi cliccerà Cioè, scusami, mi stai clicciando l'omino sulla cosa Cioè, io, boh, mi stai clicciando l'omino sulla... ...la scala Io non ho parole, guarda Boccato, glitchato sulla scala Ok, quindi qua si va al zero Non parole Come potenziare anche questa armatura Cazzi, la potevo trovarla prima di... No Ma dove? Sì Troppo sì Vedere come va Sì, siamo ancora qui Oh, no damage Oh, no damage Scusate, porca destra Non c'è un altro vuole rompere Oh, no... Oh no... Oh, no damage Oh no... Oh no... che cosa dovrebbe farmi aggrare da quei testi di merda un po' arrivano gli alien da qui sotto è il signore del sale, no il signore rosso un po' attrappa un male boia allora o senti il fuoco della mia massa flangiata ahahah cavolo fuori cappie non ho fatto male crepa da 9000 di sale abbiamo non 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 dove andiamo la sede? dove andiamo la sede? no mori, scusa ero ovviamente spammando del... tale cucchiato ecco lato va bene oh no e mi raccomando eh ecco ecco non no 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 in no 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 Sì Sì Possiamo trasformare la Claymore E' uno di quegli schifi Eh vabbè, eh vabbè, eh vabbè E allora vaffanculo, va bene E tornerà qua lui, non quell'occhio di merda E' intangibile E' sposta di cazzo Allora, avevamo detto Come scusa? Ecco, tu muori Ok Che cazzo sta succedendo qui? Guarda sta merda C'è Ma dove va? Ah Ma dove va? C'è Ma dove va? E' un po' intangibile Ah 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 Boh 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 No, però non ha il timing giusto non ci credo quant'è se aspetto si allineano o devo andare sull'altra piattaforma tutto calcolato ragazzi sto per morire di infarto ok vale più ford e non dove lo disguardi che ne fare la macchina l'accetto ok l'abbiamo sblocato però te la dà gli impiccati c'è una via lì è pieno di vie ma io non mi ricordo più niente buona da lì torniamo fuori dal cacciatore un po' terrificante salto qui c'eravamo già stati ehm sono giù e sei morto perchè ok ok finalmente siamo tornati qui almeno so dove siamo tra il santuario qui se non ricordo male oh non è vero sono lontanissimo dal santuario no lascio la scala la scala la scala la scala non è scala morti ecco morto ecco morto perchè merda devono fare la presa per forza porco giuda guarda il sale mannaggia che fastidio che fastidio non li recupereremo mai non li recupereremo subito vai acqua mi rolleviare il sale nell'arciura sta affogando con l'acqua sta affogando con l'acqua sta affogando con l'acqua per questa casca non l'acqua non l'acqua non l'acqua sa ma ma più se sai ho ripreso il sale sono morti Dovresti due secondi! Dovresti prima di che fare... Ma dovrebbe essere tipo una sorta di... ...di... 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 Aspetta! Trasforma l'arma! Non c'ho l'alchimista qui. C'è il mercante che ci vende il mercante. Ehi, si è aggiornata la cosa... ...ma ciocca di capelli qui. Ma potremmo acquistarlo il ciondolo lanterna effettivamente. Ehi ci fa con... ...fidermen! Vero l'alchimista? Quello del passo dei banditi, forse? Eccolo! Bene, spasso! Una sbutta! Nananananau! La cuffia palatina diventerebbe la maschera d'argilla. E la maschera d'argilla cosa dovrebbe diventare? Ah, veletta da torturatore. E la veletta da satico. Una maschera d'argilla. ... ... ... ... ... ... E la faccio scegliere. Beta, satico, torturatore e basta. ... 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